Ecco cosa resta di una delle zone colpite dal vasto incendio di ieri notte che è interessato all'anno Pietranico e Torre dei Passeri nel Pescarese. Queste le immagini della notte scorsa, lingue di fuoco che sono partite in contemporanea dai tre centri e ciò farebbe pensare al dolo. Stamani in azione ancora due elicotteri dei vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai. Protezione civile, forze dell'ordine e sindaci che per tutta la notte hanno supervisionato la zona. A Torre dei Passeri il sindaco Mancini indica alla telecamera di Alberto Capo cosa resta della vegetazione in cenere. Qui siamo tornati a vedere qualcosa che non si dovrebbe mai accadere, probabilmente tutto in forma dolosa, adesso stanno indagando le forze dell'ordine, ci sono già le prime indagini tutta la notte insieme al corpo dei vigili del fuoco, dei volontari vigili del fuoco, della protezione civile, le forze dell'ordine anche presenti, stanno ricostruendo il tutto. Ci sono stati diversi focolai messi in diverse zone, non solo di Torre dei Passeri ma anche di Alanno. Adesso ci troviamo qui, località Grottucce di Colle della Civetta e come penso che si possa vedere alle mie spalle il Colle è quasi andato tutto bruciato. Adesso partirà sicuramente l'operazione di bonifica e quindi di assestamento di tutto il versante, dei vari versanti del fuoco. Donne, uomini, mezzi, una macchina che si è messa in moto da subito per spegnere le fiamme nella notte. Qui siamo ad Alanno, il sindaco Oscar Pezzi. C'è stata una riunione in prefettura per fare un po' il punto. Qui ad Alanno com'è la situazione? È sotto controllo? Sì, Alanno è abbastanza sotto controllo anche perché noi siamo stati toccati marginalmente. Comunque diciamo che il fronte di essere partito su tre punti diversi e quindi si pensa a qualcosa di non legale. Sicuramente qualcuno ha messo fuoco perché erano su tre punti diversi contemporaneamente. Io sono stato qui fino a verso le due e poi mi sono allontanato e la situazione era abbastanza brutta. Ieri sera, stanotte, devo dire grazie ai vigili del fuoco, devo dire grazie alle forze di polizia dei carabinieri in modo particolare che sono state presenti, ma stamattina con l'intervento degli elicotteri diciamo che la situazione è migliorata molto. Speriamo nella pioggia? Sì, così ci eravamo salvati. Quest'anno invece a fine estate è arrivato l'incendio. Perché insomma non è il primo caso di incendio in queste zone? No, diciamo che questa zona è colpita tutti gli anni, purtroppo tutti gli anni questa zona è ripetutamente colpita. Quest'anno ci eravamo salvati, siamo arrivati a fine agosto ma è arrivata la sorpresa. L'odore acre, il fumo, il nero della vegetazione in cenere, un quadro triste dipinto forse da mani umane con colori che cambiano il volto verde di centri che vivono di natura. Le indagini dovranno stabilire l'eventuale dolo ma l'amarezza comunque resta.